Progetto di Startup a Pescara, un importante appuntamento si terrà sabato, di cosa si tratta in particolare? Questo è il primo evento pubblico che si terrà all'interno del mercato coperto sabato 27 dalle ore 17.30 in poi. Si svolgerà inizialmente con una pièce teatrale proprio sul lavoro condiviso, quindi in modo tale da capire immediatamente le scene, come si vive condividendo e lavorando insieme. Poi ci sarà un dibattito con alcuni ospiti che vengono da realtà di co-working a livello nazionale che già funzionano molto bene. E poi ci saranno il vero party, diciamo, quindi c'è la possibilità di conoscere il progetto, incontrare noi, i nostri partner, anche grazie allo sportello informativo su finanziamenti start-up, come aprire una nuova azienda. Vogliamo anche spiegare che cos'è lo start-up? È un progetto appunto dove il Comune di Pescara è capofila insieme ad altri partner, come CNA, Confesercenti e CGL. È un progetto nato da un bando che è stato vinto del Lanci, comunemente giovani, proprio per promuovere quella che è la cultura della sharing economy, che porterà appunto all'apertura di un co-working pubblico. In questo co-working pubblico ovviamente potranno lavorare tantissime professionalità, però prima di arrivare al co-working c'è bisogno, diciamo, un po' di sensibilizzare la cittadinanza su questo nuovo modello perché è un po' una rivoluzione. Per questo motivo siamo stati scelti 25 peer educator che da ottobre fino a maggio prevedono una serie di formazioni e iniziative proprio su questi temi principali.